com'è finita 2 a 1 per la fiorentina 2 a 1 per la fiorentina volevano vincere anche salernitani volevano cucù cucù mia e io intanto e guardate le cascate sono di colore viola adesso guardate di qua le cascate sono di colore viola perché qua anche back city c'è il giglio come simbolo perché sono francesi e festeggia la fiorentina e ci hanno messo il colore viola quindi ragazzi grandi quanto casa che io voi in tour a a vedere che back non guardo la pagina una partita l'ho vista ho visto in pullman mentre si andava da una località all'altra e si è vinto 2 a 1 ragazzi salutate questa fiorentina quasi rinata grande lucajovic chiedete scusa lucajovic ragazzi chiedete scusa lucajovic grande attaccante grande cazzo grande ora sono verdi vabbè la tronica sarà da celebra anche altre cose comunque ragazzi tantissima roba tantissima roba intanto ve le faccio le cascate guardate belle guardate belle guardate belle io faccio una camminatina adesso guardate che spettacolo che spettacolo come si dice in toscana comunque fiorentina 2 sernitana 1 bella prestazione certo ragazzi le partite le vanno chiuse perché poi ti pareggiano e rischi e di nuovo viola di nuovo viola eccole le cascate viola eccole cazzo eccole forza viola comunque tornando alla partita io l'ho vista a pezzi grande prestazione di tutti nel primo tempo però ragazzi le vanno chiuse le vanno chiuse grande qua me grande con eppure bene cabral che lo vedo in crescita e ragazzi da me sapete a me cabral non è che piaccia tanto ma l'ho visto in crescita quindi benissimo benissimo così se vinto siamo su tre vittorie consecutive 4 se si considera 5 4 se si considera anche la coppa io sto passando una bellissima giornata qua in chebec domani purtroppo tocca tornare a casa ma va bene così guardate ragazzi veramente veramente bello ma uno spettacolo ed è ancora più bello quando vince la fiorentina è ancora più bello quando vince la fiorentina ragazzi le casca cascate viola sono sono qualcosa di eccezionale ve le ora sono più rosina ma belle 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 e vorrei fare anche un applauso a mister italiano che lo sapete l'ho criticato ovviamente però ragazzi le ha cambiato modo di giocare la fiorentina gioca bene ha messo jovic quando doveva essere messo però ripeto cabral è in crescita bene bonaventura per voi dicevate vecchio non capisce nulla bonaventura ai suoi momenti no perché comunque alla mia età c'ha 34 anni siamo anziani e siamo però è un giocatore ancora essenziale secondo me bene barack quando entrato bene dodò ma bene tutti oggi bene la difesa igor l'ho rivisto finalmente bello sereno a igor quindi ottimo ottimo così e dai ragazzi continuiamo io godo quanto poi casava l'esca alesca terzi oggi è entrato molto bene biraghi pure ha giocato bene però è entrato molto bene alesca terzi che che fomenta la 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 cosa la il pubblico bellissimo ragazzi bellissimo io comunque domani vi porterò anche un video su quebec city intanto le cascate sono di nuovo vio sono di nuovo viola viola ragazzi le cascate io vi mando un bacio di mi raccomando seguite space viola che sono degli amici la pagina di lorenzo seguite me su instagram seguitemi su youtube mettete like al video se vi è piaciuto e mettete l'iscrizione se non l'avete ancora fatto un bacio sempre forza viola viva il che bec